Un derby rocambolesco, quello tra Pianella ed Angolana, ed una rimonta incredibile dei ragazzi di Piccioni, da 0 a 2 a 3 a 2, il tutto nel giro degli ultimi 15 minuti. Non può che masticare a mare un Pianella quasi perfetto nella prima ora di gioco. I padroni di casa hanno avuto il merito di adattarsi meglio e subito alle quasi proibitive condizioni del campo del vecchio Verrotti, presidiando con sapienza tutte le zone del campo e affidando le offensive più pericolose a Marco Coppa, ispiratore delle due marcature locali. La prima al ventiduesimo, quando il furetto va via sulla sinistra e crossa, Fasciani tocca con un braccio, ma il signor Bianco di San Benedetto del Tronto non fischia subito, aspettando l'esito del tiro di Di Giandomenico, che viene respinto. Quindi si rega sul dischetto e dopo le proteste di rito, la trasformazione centrale è di Rossi Finarelli. L'attaccante galvanizzato dopo tre minuti prova anche dalla distanza, di prima intenzione. Nell'angolana si rivedono dal primo minuto Disidoro e Cozzolino, ma i nerazzori stentano moltissimo a dare rifornimenti agli avanti. La prima reazione giunge al trentaseiesimo, quando Di Quinzio esce su Disidoro e Cozzolino centra il palo. Dal corner seguente la torsione di Fuschi si perde al lato. Ma il finale di tempo è ancora targato Pianella, col solito Coppa, imprendibile, che al quarantaduesimo costringe Bifulco alla deviazione in corner. Dalla bandierina calcia lo stesso Coppa, per lo stacco imperioso dell'oggi esordiente Loris Di Quinzio, fratello del portiere Cristian. Per lui un debutto a coi fiocchi. Stordita da questo 1-2, l'angolana sembra incapace di rialzarsi. Neanche quando Piccioni, all'ottavo, gioca il tutto per tutto, togliendo Rincione e Fasciani per due punte, Lusiano Gama e Faieta. Trascinata da uno strepitoso Doardi, la difesa pienellese rintuzza tutte le sciarbe offensive angolane. Questo fino al 29esimo, quando cambia tutto. Punizione di Geller verso il centro area, la palla giunge sul secondo palo e Cozzolino, seppur a fatica, la spinge in rete. È la resurrezione dell'angolana, cui fa da contraltare la paura che invade la squadra di Fani, la quale al 38esimo rischia di incassare il pari sulla sventola del neoentrato Vespa e sul tapin di Faieta. Di Quinzio se la cava, ma è questione di secondi, lo schema è sempre quello. Palla spiovente in area, in due non controllano Lusiano, torre per Disidoro. Di Quinzio lo anticipa, ma nulla può, su un altro tapin, questa volta vincente, di Alessandro Faieta. A questo punto l'angolana fiuta il sorpasso ed in effetti lo trova al 47esimo. Punizione di Fabrizi, serie di carambole, quindi la classe e la freddezza di Vincenzo Vespa. Sinistro senza scampo per il neoentrato Sebastiani, gol contestato dai locali per uno sbandieramento del secondo assistente non avallato dal direttore di gara. Un gol pesantissimo che fa proseguire la rincorsa dell'arenato Curi e dà un'ammazzata tremenda alle speranze e salvezza dei pianellesi.